vai giù che la prendi marco sei un cagatazzo sei aspetta eppure seggio di lui non fai più l'amore dai non farmi ridere pirla chi ti ha mandato un messaggio che bigolo che è appoggiamo lì poi lì cosa fai salti lo copiamo prima l'abbiamo messa lì poi la mettiamo qua ancora se è bagnata se arrivi qua con la vuota bagnata è troppo inclinata vedi che c'è dentro ancora il tassello vedi che c'è l'altro tassello vedi che è giusta no ma dopo lo imbullona anche qua fine cioè lo possiamo anche riempire perché vedi che c'è già il tassello vecchio fissola lì e basta lo fissiamo qua e fuori dall'acqua lì appoggia guarda se appoggia a sinistra si si e lì c'è giù la piastra e gli ho saldato la piastra apposta l'unica cosa esatto l'unica cosa che devo fare è il buco lì nell'acqua ma vabbè tira via due secchi d'acqua e basta parte che viene avanti ancora un pezzetto e c'è già lì il tassello vedi no no ma lo cambiamo poi adesso per provare una volta che va fissita e come era prima no ma non è fissata sotto ma l'ho alzata staccata si l'hai a posto perfetto e questo lo pieghiamo lo pieghiamo un po' questo qua lo chiamiamo carcanella quando c'è voglia di lavorare un tassello va dentro lì la gargamella quando c'è voglia di lavorare questo qua se lo metti in spalla lo porti in moto e lo porta giù là cacchio così è davvero se lo riempi cazzo arrivi ma vai contro l'acqua eh vabbè tu ancora capite che fai oppo poi ti cagli addosso a fare un sassetto una salita ti sei cagato addosso questo il gargamella lo prende lo butta dentro qua si ascolta di bene questo lo buttiamo giù e basta lo abbassiamo e basta non dobbiamo fare altro che abbassarlo c'è via un po' di roba di dietro lo buttiamo giù e basta si quello si eh ma c'è sotto il travetto fa niente quel pezzettino ma va giù tanto eh si si questo va giù diretto sotto una volta che tiri via tutto basta in piano se lo furisci qua così vabbè arrivi qua se qua dopo trova se lo sposta di nuovo se lo forse lo lo porta via ma non lo so se ma se lo trova piatto non lo sposta se lo metti così dentro nel bugoli secondo me la prima volta che viene non ci sta no? no non ci sta è troppo grande questo qua devi soltanto mandarlo giù rimane lì ma è quale che puzza? a scendere di là lui in bocca non può mettere più nessuno perché che vede il trasfile bravo che brutta immagine cazzo hai fatto seccare la pianta spampi cioè hai attaccato la scaletta è morta cazzo chi è? la pianta lì ma non mi rompere i coglioni te le piango oh tirola via perché se piove la troviamo in piazza grazie a tutti